Nell'Europa divorata dal nazismo, molte famiglie ebree riuscirono a salvarsi vendendo intere collezioni d'arte. Milioni di altre finirono sterminate nei campi di concentramento. Nell'Europa divorata dal nazismo, non c'era un'obsession per l'art, c'era un weapon per gli germani. La mia grand-mama è stata forcita a vendere tutto all'interessalmente 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 e con la voce di deportazione. Un dei più rampilleurs dell'Historia La mia proprietà, molto spesso, è stata deportata in dei campi di nazi. La mia proprietà, queste lettere, ha cambiato la mia vita. L'art dei generi, è stata per loro una monnaie d'échange. La mia proprietà è stata costruita anche per l'interessalmente all'interessalmente le persone che hanno stato costruito. Il passeggerso alle persone che hanno costruito alle persone che hanno costruito e hanno costruito di riempire affidare tutto al mondo. L'art dei generi è stato costruito La mia proprietà è stato costruito La mia proprietà è stata costruita La mia proprietà è stata costruita La mia proprietà è stata costruita PICASSO G. MATIS mone Primerno Devi scambiare i quadri, quando lui dà un ordine deve essere eseguito o ne pagherai le conseguenze.